shock a Recanati, quindicenne si butta dalla finestra del liceo e in condizioni critiche l'eredità di Vange arriva a Pesaro, la città prepara un omaggio al grande artista dopo 29 anni Amerigo Varotti lascia la direzione di Confcommercio allerta truffe, falsi operatori di marche multiservizi chiedono di visionare le bollette Sport nuovo passo indietro della VL che a Udine prima illude poi crolla Buona serata e ben ritrovati su Rossini TV, ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale del canale 80 che in questa edizione di giovedì 7 novembre apriamo occupandoci di una notizia che arriva fuori dalla provincia di Pesaro Rubino e in particolare da Recanati dove questa mattina al liceo Leopardi una quindicenne si sarebbe buttata dalla finestra del secondo piano della scuola durante l'orario di lezione. Mentre la classe stava infatti uscendo dall'aula in direzione della lezione di educazione fisica la ragazza in questione, residente Sambucheto sarebbe salita in piedi sul banco per poi lasciarsi cadere nel vuoto sotto gli occhi dell'insegnante che non è potuta intervenire. Immediato l'intervento dell'ambulanza che ha trasferito la ragazza al Torrette di Ancona dove è arrivata in gravi condizioni ma non risulterebbe in pericolo di vita. È stata sottoposta a intervento chirurgico per intervenire su due fratture importanti e su un trauma cranico. Intanto indagano i carabinieri. Una notizia dunque questa che riporta alla mente in qualche modo quanto avvenuto meno di un mese fa con la morte di Leonardo Calcina, quindicenne, suicida a Senigallia, tormentato da episodi di bullismo presso l'istituto Panzini. Ieri pomeriggio i genitori di Leonardo Calcina accompagnati dall'avvocato peserese Pia Perrici sono stati ricevuti dal ministro dell'istruzione Valditara al quale è stato consegnato un dossier con tutta la documentazione sul gravissimo episodio in merito al quale il ministro ha garantito che si farà luce e che la famiglia non sarà lasciata sola. L'avvocato Perrici ha presentato anche una proposta di legge di prevenzione al bullismo che porta il nome dello stesso Leonardo Calcina. E da quasi un mese è invece scomparso il 19enne di Acqualagna Riccardo Branchini. Ieri vi abbiamo dato la notizia dell'ediniego ad uno svuotamento della diga del Furlo per fare ulteriore chiarezza su un ipotetico insano gesto del ragazzo. Intanto la madre Federica Pambianchi annuncia l'organizzazione di una fiaccolata per sabato 23 novembre alle 20.30 dal Parco La Golena alla diga del Furlo. Lasciamo la cronaca e ci spostiamo su Pesaro per occuparci di un importante arricchimento artistico e culturale per la città. Quello determinato dall'eredità di Giuliano Vangi, le opere del grande scultore morto lo scorso marzo sono infatti oggi arrivate al centro artivisive Pescheria come l'ascito con cui Pesaro è pronta a costruire una grande esposizione e poi anche un museo. Un ritorno a casa del maestro Vangi e delle sue opere, così viene definito dall'amministrazione pesarese ma soprattutto dalla famiglia dello storico artista. 69 sculture e 53 opere grafiche, questo l'immenso tesoro che i Vangi hanno deciso di donare alla città di Pesaro e che questa mattina sono state trasportate in Pescheria dove per fine novembre si realizzerà una mostra temporanea in attesa del completamento del museo a Palazzo Mosca, lì dove proprio Vangi mise la sua firma con le grandi opere presenti nella piazza d'ingresso. Oggi siamo qui alla Pescheria dove sta arrivando tutto il materiale, tutte le sculture, tutte le opere che in qualche modo sono state donate alla città di Pesaro e l'obiettivo è riuscire entro il mese di novembre ad inaugurare una mostra. Ovviamente sarà una mostra temporanea però piuttosto che mettere le opere all'interno di un magazzino o di un qualsiasi deposito abbiamo deciso di metterle da subito in mostra. Non so se riusciremo a mettere in mostra tutte perché sono veramente tante però cercheremo di dare un senso a questa mostra che vogliamo organizzare ovviamente in maniera provvisoria e temporanea in attesa che poi sia completato il museo che stiamo portando avanti. Ci sarà un vero e proprio museo dedicato al maestro Vangi di cui tutta la città sicuramente sarà orgogliosi e a guadagnarci sarà quella che l'opportunità che i turisti avranno nel momento in cui verranno a visitare la nostra splendida città. Un grande gesto di generosità da parte del maestro Vangi e naturalmente di tutta la famiglia. Già con Giuliano lavoravamo da tempo all'ipotesi sperando naturalmente di poterlo fare con lui in vita ma di donazione di gran parte delle sue opere alla città di Pesaro in nome del fatto che lui si sentisse ormai pesarese da decenni e anche dei segni che in questi anni aveva iniziato a lasciare materialmente nella città dalla scultura, dalla memoria in piazzetta Mosca che ormai è diventato un angolo iconico della città, ai gabbiani, all'Oder, alla libertà e al movimento in piazzale Matteotti, fino anche alla mostra importante e decisiva svolta qui qualche anno fa. Questo è un atto di generosità, una conseguenza del legame che si è creato con la città e con quanto un artista mondiale come è stato ed è tuttora chiaramente Giuliano Vangi nell'immaginario rispetto alla scultura, al disegno, non solo, ha deciso di legarsi per sempre all'estero di Pesaro. Un dono alla città come da volontà del maestro, un ritorno a casa delle opere che testimonia il rapporto di Vangi con Pesaro, come racconta suo figlio Marco. Un dono suo che ha sempre voluto fare, sicuramente, lui è vero che è di Firenze, Berberino di Mugello, cresciuto a Firenze, ma insomma la sua città d'adozione è stata sicuramente Pesaro e a Pesaro ci teneva tantissimo e ci teneva appunto che le sue opere fossero proprio stabilite qui in maniera permanente. È un dono nostro perché è fatto veramente con il cuore, insomma, sia per il rispetto della volontà del babbo, sia per il piacere proprio di mettere a disposizione queste cose che sono veramente eccezionali dal punto di vista artistico e per noi di famiglia affettivo, insomma. Amerigo Varotti lascia la direzione provinciale di ConfCommercio dopo 29 anni e dopo quasi 40 trascorsi all'interno dell'associazione di categoria. Ascoltiamo le sue parole in questa intervista. Dal primo dicembre Amerigo Varotti non sarà più il direttore di ConfCommercio Marche Nord. L'annuncio, ventilato da giorni, è stato ufficializzato questa mattina in una conferenza stampa che vede Varotti lasciare quella direzione mantenuta dal 1995 per un'avventura in ConfCommercio iniziata nel 1986. Un'avventura che non finisce perché Varotti, che è in pensione da circa 4 anni, manterrà in cariche nell'associazione circoscritti all'ambito di sviluppo e promozione turistica, da Federalberghi alla sua creatura degli itinerari della bellezza. C'è grande soddisfazione personale, insomma, per quello che abbiamo fatto e quindi questi tanti anni, questa vita sicuramente non è stata sprecata. Non ho nessun rammarico, abbiamo superato anche momenti difficili. Sono felice di quello che abbiamo fatto e di quello che ovviamente continuerò a fare per ConfCommercio fino a quando, insomma, i dirigenti vorranno. Varotti ha ricordato un lungo percorso condiviso con le presidenze di Mancini, Marchetti, Musso, Berti, Pedinotti e infine Angelo Serra, che ha trasformato un'associazione di commercianti in qualcosa di molto più grande, radicato e ramificato nel territorio. Grande associazione di imprese di tutti i settori, abbiamo trasformato il mondo del turismo con la creazione della Federalberghi Peso Rubino, abbiamo creato l'associazione Ristoratori che prima non c'era ed è l'unica associazione di ristoratori della provincia, abbiamo realizzato tantissime iniziative su tutto il territorio dove abbiamo 15 sedi e tra l'altro sedi che sono state in questi ultimi anni, sono state aggiornate, ristrutturate, penso alla sede di Fano, alla sede di Gabice, quella di Urbino. Abbiamo creato un progetto per l'itinerario della bellezza che ci sta dando molte soddisfazioni sia dal punto di vista turistico ma anche economico, devo dire, con cinque comuni che inizialmente affidarono l'incarico della promozione alla ConfCommercio e che oggi sono diventati 29 nell'anno prossimo. Percorso Florido non privo di difficoltà. Il momento più basso sicuramente sono state le due vicende, quella del Covid che ha riguardato tutte le imprese, tutte le associazioni con le difficoltà del mondo economico e l'altro invece aspetto che ha riguardato soprattutto noi questa iniziativa imprenditoriale che non è andata bene, questo del Cubo, questo tentativo voluto dai dirigenti, da tutti noi insomma, di creare un centro commerciale all'interno del centro storico, favorendo la presenza, la partecipazione dei commercianti del centro che non ha avuto i risultati sperati e ci ha creato anche dei problemi economici, diciamolo onestamente. L'attuale vice direttrice di ConfCommercio Agnese Turfelli sarà l'erede, almeno in fase temporanea, delle funzioni direttive di Varotti. Certamente cerchiamo di avere un rinnovamento perché con i tempi che ci sono dobbiamo cercare di riorganizzarsi un po' e quello che vediamo per il momento è che l'Agnese, che è il vice direttore, farà le funzioni di direttore e per vedere di riorganizzarsi e decidere chi eventualmente un giorno riassumere un altro direttore che porterà avanti sia la linea che il CDA di ConfCommercio, stiamo valutando, studiando, vedendo cosa possiamo migliorare per dare sempre dei migliori servizi ai nostri associati. Nelle ultime ore sono giunte segnalazioni in particolare dai comuni di Tavuglia e di Monte Calvo in Foglia di persone che si presentano a casa dei cittadini chiedendo di poter visionare le bollette di luce o gas e avere accesso ai contatori. Si tratta di potenziali truffe perché la stessa Marche Multiservizi sottolinea che non si tratta di loro dipendenti. Marche Multiservizi infatti non vende luce e gas e quindi non ha operatori che propongono di stipulare contratti di questo tipo. Per ciò che concerne l'attività di lettura e sostituzione dei contatori, Marche Multiservizi opera attraverso due ditte incaricate che si chiamano Ener Services e Easy Servizi, i cui operatori sono ben identificati con apposito cartellino in cui vengono riportati nome e cognome e il fatto che si tratti di un'attività svolta per conto di Marche Multiservizi. In nessun caso comunque l'azienda ricorda che gli addetti richiedono di visionare bollette né tantomeno di firmare contratti. A Pesero il caso a Fidopoli verrebbe strumentalizzato come inizio della campagna elettorale in vista delle regionali per depotenziare l'eventuale candidatura di Matteo Ricci. Queste le parole che ha rilasciato ai nostri microfoni il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, in merito alla questione. Ma la questione dipende dalla questione squisitamente politica. È l'avvio della campagna elettorale per le regionali. Il centrodestra dopo aver perso, straperso a Pesero e a Vallefoglia appena è uscita la candidatura di Matteo Ricci come uno possibile candidato del centrosinistra gli ha preso una FIFA della Madonna, diciamo così, nel senso che hanno cominciato a capire che la regione Marche potrebbe essere contesa dal centrosinistra e con quella candidatura è tutta una canea sul nulla dal punto di vista politico. Dal punto di vista dell'azione dell'amministratura farà il suo corso se qualcuno ha fatto qualcosa che non va bene e voglio dire pagherà come in tutte le vicende. Del resto i magistrati devono fare liberamente e autonomamente il loro mestiere. La vicenda è una vicenda però squisitamente politica da uno che crede un po' di politica di conoscerla. Adesso si tratta di vedere come andranno le due regioni del Sivota e cioè in Emilia Romagna e in Umbria però le Marche con quella ipotesi di candidatura potrebbero essere contendibili. Quindi calma e gesso, voglio dire lasciamo fare il lavoro all'amministratura e per il resto noi ragioniamo di questioni politiche rilevanti. Devo dire che io che sono uno di quelli che ha un ottimo rapporto con la Giunta regionale, faccio fatica a portare a casa molti risultati, penso alle politiche sul lavoro, le politiche sanitarie. Ho apprezzato per esempio l'impegno sulle ciclo pedonali che erano diciamo della precedente amministrazione portata avanti da questa amministrazione e sul BRT io e ho anche ringraziato perché quello che è giusto mi pare che si debba fare. Penso che bisogna ritornare alla tranquillità, alla serenità e poi chi ha più filo lo tesse al momento in cui l'ottobre prossimo mi pare sarà la scadenza delle prossime regionali. Disagio in vista domani per quanto riguarda il trasporto pubblico in quanto anche Adribus aderirà venerdì 8 novembre allo sciopero nazionale dei trasporti. Per l'azienda lo sciopero riguarderà le fasce orarie fra le 5.30 alle 8.30 e fra le 17.30 e le 20.30. Esclusi dallo sciopero i servizi per i disabili e i servizi per le scuole materne ed elementari. A causa di una frana a Pesaro è stato temporaneamente chiuso il transito veicolare su strada a Monte Granaro fra via Kennedy e via Martin Luther King. A partire da domani sarà istituito il doppio senso di marcia nelle vie Lincoln, Gandhi e King. E in tema di disagio da maltempo fra i nostri telespettatori c'è chi ci segnala come dallo scorso 16 settembre ci sia questa quercia caduta in prossimità di via Montebianco a Borgo Santa Maria. Quasi due anni fa l'albero per fortuna cadde senza invadere la sede stradale ma si fa presente come la vegetazione sia rimasta lì da allora con un intervento di rimozione ancora rimandato. Il prossimo 22 di novembre sarà la città di Gabice Mara ad ospitare la 33esima edizione del premio Beniamino Gigli dedicato ai marchigiani dell'anno. Sarà il Grand Hotel Michelacci di Gabice Mara ad ospitare il prossimo 22 novembre per il secondo anno consecutivo la 33esima edizione del premio Beniamino Gigli dedicato ai marchigiani dell'anno. Un premio istituito dall'Accademia di Scienze e Cultura Marchigiana che dagli anni 90 in poi ha riconosciuto il valore di 461 cittadini della nostra regione distintisi per i loro meriti nei settori di arte, cultura, imprenditoria, politica, volontariato, sport. Questo premio nacque 33 anni fa a Senigallia e lo riportiamo, lo abbiamo riportato per la 33esima volta in un paese di mare, Gabice Mare. È un paese meraviglioso ed era giusto che venisse qua. Cioè il premio è semplicemente quello di ricevere gratitudine dagli marchigiani attraverso come un ambasciatore che porta nel mondo e dice o dirà io sono ambasciatore delle Marche perché sono marchigiano dell'anno fatto da questa Accademia. Ad essere premiati il 22 novembre saranno Paolo Notari, Giovanna Mulazzani, Mirko Bilò, Silvana Canestrari, Rossano Bartoli, Lino Secchi, Gino Sabatini, Rossana Berardi, Enzo Giancamilli, Guido Castelli e Raimondo Porcelli. Saranno tante le persone illustri che parteciperanno alla serata cerimoniale di consegna del premio e quindi di conseguenza è sempre una grande opportunità per trasmettere il messaggio che Gabice Mare è una città accogliente tutto l'anno e grazie all'imprenditoria gabicesa, in questo caso alla famiglia Michelacci che si rende sempre disponibile per offrire una visibilità a tutto il territorio. Ed ora andiamo a conoscere la prossima capitale della cultura per una settimana nel progetto di Pesaro 2024 mentre è agli sgoccioli la settimana dedicata a Gradara dall'11 di novembre si andrà alla scoperta di Cartoceto. Alla scoperta di Cartoceto dall'11 al 17 novembre sulla scia del progetto 50x50 Capitale al Quadrato di Pesaro 2024 per una settimana di promozione delle eccellenze del territorio dallo storico olio d'op all'arte architettonica, musicale, teatrale e non solo. Sette giorni all'insegna della cultura che abbraccia e sposa la natura di un intero territorio. Nel periodo di Cartoceto dopo il festival che è la 47esima edizione della mostra al mercato dell'olio dell'oliva e abbiamo pensato alla settimana di Pesaro 2024 Capitale Italiana della Cultura proprio come una estensione di questo contenitore culturale dove sostanzialmente abbiamo messo insieme arte, cultura, paesaggio e gastronomia. Quello che abbiamo cercato di fare è di organizzare una settimana che sia perfettamente in linea con il tema di Pesaro 2024, cioè la natura della cultura. E quindi siamo andati e andremo dai laboratori inclusivi con i bambini dell'Istituto Comprensivo Marco Polo di Lucrezia per far conoscere anche il valore appunto della natura, delle piante officinali, agli spettacoli teatrali fino ad arrivare ai concerti che abbiamo definito segreta bellezza, cioè concerti nei luoghi di produzione delle nostre eccellenze in gastronomia dove metteremo appunto insieme in questo caso ancora una volta Natura e Cultura. fino poi ad arrivare anche alle testimonianze identitarie del nostro borgo storico, del nostro paese con la collaborazione di alcune associazioni culturali del territorio per poi concludere il tutto con Trionfo Gourmet, cioè una sorta di pranzo spettacolo in quello che è la culla culturale del nostro paese e cioè il Teatro del Trionfo di Cartoceto. C'è grande attesa per la settimana da capitale di Cartoceto che il vice sindaco pesarese definisce un volano per il progetto e obiettivo più grande di una Pesaro capitale europea nel 2033. La settimana di Cartoceto è particolarmente in linea con quello con lo spirito della natura e della cultura, non poteva essere altrimenti in un territorio che ha fatto della bellezza della cura del territorio, partire dalla cura attraverso l'agricoltura, attraverso il paesaggio ma anche attraverso la trasformazione dei prodotti come appunto l'eccellenza nazionale della DOP di Cartoceto ma anche della bellezza architettonica del borgo. Non a caso ci sarà anche un doppio appuntamento anche con l'Ordine degli Architetti proprio a valorizzare il tema dei borghi dal punto di vista architettonico ma anche della vita nei borghi e anche un po' il simbolo che è il frantoio del triofo che è una delle condizioni migliori tra patrimonio, tecnica, arte e anche valorizzazione di quello che è il tema della cultura olearia e quindi insomma una settimana veramente ricca che parte con un importante coinvolgimento anche delle scuole dal punto di vista della didattica, dal punto di vista della conoscenza delle piante, delle essenze per andare proprio alla natura, della cultura e per poi andare su musica, fotografia, pittura, insomma le arti che pervaderanno il borgo e non solo. Quindi veramente una settimana importante, tutta da vivere di Cartoceto, capitale, tenere la cultura con Pesero 24 e crediamo che sarà una di quelle che ci ricorderemo maggiormente anche in vista della sfida della capitale europea 2033. E concludiamo con le notizie di sport ricordandovi che domani alle 20.30 torna in campo Little Service alla Pala Megabox nella massima serie di calcio a 5. I pesaresi dopo tre sconfitte su tre non senza lottare ospiteranno i campioni d'Italia della metà Catania che lo scorso anno eliminò i pesaresi proprio in semifinale Scudetto. Dal calcio a 5 al basket ieri sera invece andata in scena la VL nel turno infrasettimanale di Udine. Dopo la boccata d'ossigeno della vittoria ritrovata con Orzinuovi, l'infrasettimanale di Udine riaffossa il morale della VL che al pala Carnera perde 83 a 72 dopo una partita condotta per tre quarti di match prima di un crollo verticale nell'ultimo parziale. E dire che la Carpegna Prosciutto Basket sembrava avere in pugno la contesa quando nel terzo quarto si era presa pure un vantaggio di 15 punti. Udine però non incassa il colpo del KO e riemerge prepotentemente al cospetto di una VL che negli ultimi dieci minuti si squaglia come neve al sole in un mortificante 27 a 9 che consegna la settima vittoria stagionale ai frulani condannando Pesaro al sesto KO. Vani i 29 punti di Ahmad e i 20 di King. Male il gruppo degli italiani, malissimo la percentuale a rimbalzi che dicono 53 a 34 per Udine. Quando dovevamo resistere abbiamo fatto diversi errori e qualche forzatura che dobbiamo analizzare ma portiamo a casa 30 minuti di una squadra vera ancora non abbiamo quei 40 minuti di questa intensità che loro hanno fatto specialmente nell'ultimo quarto dove noi siamo un po' calati per quello che bisogna lavorare ancora. Materiale da analizzare in fretta perché domenica la Vitre Frigo Arena arriva alla capoclassifica Rimini che fin qui ha perso una sola gara in campionato. Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Subito dopo il Tg alle 20 vi porteremo alla scoperta della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. È andato in scena il secondo weekend di questa 59esima edizione che vi mostreremo in questo speciale realizzato che andrà in onda alle ore 20 ricordandovi poi anche l'appuntamento con il prossimo e ultimo weekend del 9 e del 10 di novembre. E poi giovedì sera dedicato al basket perché dopo la sconfitta di ieri a Udine i temi saranno analizzati nel salotto di Insieme a Canestro come sempre in diretta dalle 21 con la nostra Elisabetta Ferri e il nostro Alessio Zaffini e ospiti della puntata il playmaker della Carpegna Prosciutto Basket Matteo Imbrò e il giornalista Alberto Crescentini. Vi ricordiamo dunque l'appuntamento in diretta alle 21 con anche la possibilità di interazione di voi tifosi al numero whatsapp dedicato 370-366-7210. E dopo l'analisi ci sarà la partita quella di ieri della VL a Udine. Vi proporremo la gara intera in differita alle 22 e anche sabato alle ore 15. e poi vi aspetto domattina in diretta alle 7 e 20 per la rassegna stampa dei quotidiani locali. Buongiorno Rossini con le notizie che vi proporranno i quotidiani in questa giornata del venerdì 8 di novembre. E tutto invece per questo TG serale del 7 di novembre. Si chiude qui Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Rossini TV.